Che bontà! E' morbidissima e adesso vi faremo vedere anche altre colombe, altri prodotti sempre che preferiamo noi, sempre delle colombe con gusti diversi, da non sottovalutare quello con pesche e passito di pantelleria, un ottimo prodotto. La colomba artigianale da quella industriale è completamente diversa? La colomba artigianale è completamente diversa perché ci sono solo prodotti naturali, non contiene all'interno degli enzimi che ti danno morbidezza, cioè hanno una shelf life. L'unico problema che riscontra il nostro prodotto è che ha una shelf life molto ridotta, massimo 25 giorni, 30 giorni massimo. Poi comincia ad asciugarsi, poi invece quella industriale è contenente all'interno degli conservanti e degli enzimi che ti danno morbidezza, ma non sono prodotti naturali, sono dei prodotti che ti danno una durata anche di cerezzi. Ma i nostri prodotti purtroppo non ce l'hanno. Questi sono prodotti unici, scrivete nei commenti da dove ci state seguendo, noi siamo a Mirto, questa è la colomba italiana, la miglior colomba italiana, medaglia d'oro, colomba innovativa.